Ciao tifoso! Benvenuti nel canale Juventus oggi. Iscrivetevi al canale, e lasciate un like al video, per non perderti nessuna novità dalla la vecchia signora. Il calcio italiano è stato di recente escosso da uno scandalo di scommesse, con voci che suggeriscono un elenco di coinvolti più ampio di quanto sospettato. Anche se i nomi di Sandro Tonali, Nicolo Zagnolo, Nicolo Fagioli e Nicola Zaleschi sono emersi, si sospetta che altri giocatori, sia della Serie A che della Serie B, possano essere coinvolti. Attualmente al comando della Sampdoria, l'ex giocatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha condannato il comportamento dei giocatori coinvolti nel caso con le sue parole. Mi dispiace per quello che è successo, perché sono giovani e sono molto preziosi per il nostro calcio. Vedere questi ragazzi coinvolti in questo tipo di situazione è spiacevole. Oggi ho parlato con i miei giocatori sull'argomento. Speriamo che non ci siano altri casi. Dobbiamo fare attenzione. I giocatori hanno il lavoro migliore al mondo e non ha senso sprecare tempo con queste situazioni. Hanno tutto ciò che vogliono. Hanno denaro, successo, fama. Pertanto, rovinare la propria carriera per questo genere di cose è molto triste. Ci dispiace molto, vedremo e speriamo che non sia niente di serio, ha dichiarato Pirlo. Riguardo al caso di Fagioli, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione oggi, martedì, indicano che Fagioli avrebbe raggiunto un accordo con la giustizia sportiva. Secondo le voci, Fagioli dovrebbe essere squalificato per sette o otto mesi. Nei prossimi giorni, conosceremo il verdetto finale sul giocatore della Juventus. Sulla questione, che ne pensi di questi avvenimenti nel calcio italiano e qual è la tua opinione al riguardo?